Tre giorni di sciopero per chiedere ad Amazon stipendi migliori e colpire dove fa più male in quei giorni prima delle feste in cui gli ordini si impennano. Ad incrociare le braccia sono stati i dipendenti che lavorano nei magazzini del gigante americano in Germania. La serrata è cominciata in cinque dei nove centri di distribuzione nel paese, dicono i sindacati. Rivendicazione principale è l'adattamento delle condizioni al contratto collettivo dei dipendenti di poste e negozi. Amazon risponde sottolineando che gli stipendi sono già superiori alla media e assicura ogni consegna arriverà in tempo per Natale.